ciao a tutti ragazzi vacanze finite quindi da domani si torna a lavorare sul canale ecco i prossimi appuntamenti domani sera live ore 21 e 30 con alan wake 2 in esclusiva per gli abbonati al canale vi ringrazio per aver votato in così tanti nel sondagione che doveva decidere quale gioco sarebbe stato portato in live alla sera un abbonato però a livello top fra cui appunto ha il vantaggio di poter scegliere il gioco da portare in live ha deciso di scegliere di fare la sua scelta e quindi il sondagione si è annullato e il gioco che porteremo in live sarà madison gioco che era uno di quelli meno votati quindi è una roba che mi incuriosisce molto da domani torno a fare anche video su cutono ken sui vari personaggi sulle varie mosse ne caricherò diversi saranno prima in esclusiva per gli abbonati poi man mano che passano i giorni diventeranno video pubblici quindi grazie a tutti i ragazzi rimanete sintonizzati ci vediamo domani sera con gli abbonati per alan wake 2